E' po' anche a nostra, anche se è bella la luce, a ciattralmi brata, e qua sei cleum blu. E' po' anche a nostra, anche se è bella, anche se è bella, anche se è bella. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS E' po' anche se è bella. E' po' anche se è bella, anche se è bella. E' po' anche se è bella, anche se è bella, anche se è bella. E' bella, nella ridente collina tra la boffa e San Lorenzo. E' po' anche se è bella, anche se è bella, anche se è bella. E' po' anche se è bella, anche se è bella, anche se è bella. E' po' anche se è bella, anche se è bella, anche se è bella, anche se è bella. E' po' anche se è bella, anche se è bella. Mes bachelor oh! O tipo originale, eh! Ma di mondi originale. L'andaire in giro scrivere in todos i canton e la fresca «accele sabe bigger» di poch greater' di accele. Più semplici di così e con ciò loro tutti avvisati si dia adunque inizio allo spettacolo e buon divertimento. La mia mamma dice che mi ha stampato con queste tene e mi ha detto che no. Ma valla valla che il culo c'era e danza per me in trovo e poter seppur che Filippo ti ha i piedi più a te anche se. E a me ne importa proprio niente se hai peso ogni pese ecco. Poi lo direi per burla. Alton Braus. Eh, un Braus. Adesso perché hanno detto che si sposeranno ecco che mi hai bisogno che fanno tutto quel calvolo. Non sei una volta. Una volta e una volta. Non sei mai passato di festore una caslina a presenza al nostro sito perché tantissimo spero di essenza di altre. Sì, è vera. Però se mai tu e me non siamo accorti che il nostro carattere abbiamo preso tant'accordo. Insomma a me mamma e Filippo non mi vuoi più sapere niente. Ecco. Ma questi gli immatiri e po' grossi anche. Immatiri o no? Lì la farà proprio al piazzale e dirgliel. Ma cosa c'è il tema? Oh. Dopo che l'estea c'è di feste il trovare no? Magari dirgli fosse in vesta qua i tonetti. Oh, 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 lì mamma. L'hanno proprio vesti niente niente. Perché cosa aveva davanti? Beh, ma l'hanno sempre accorta che il conte Enrico ha fatto la corte. Ecco tu, ecco tu, ecco tu. Il conte Enrico? Sì. Sì, sì. Ma davvero? Ma bubblà? Quals'altro è proprio quello che vuole? Un conte. Sì. Oddio. 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 Siamo l'anno un po' avanti con i anni. Ma cosa andrà? L'ha la più esperienza, no? L'importante è il tetto. E poi c'è una capa a cavallo che l'erba la crasma. E te, Fiolani, pensa la sorrendita e fai tu conte. I conte dal canto. Sì. E perché Filippo? Oh, sì, 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 sì. Quei bisogna sobbinerare il signor Filippo, eh. Perché poi, fra me e te, se ti calmeranno i vatici, eh. Ma il signor Copp, ah! Corpo d'un corpesso lì! La mi fangena con tassa! Eccoci qui! Eccoci qui! Allora, provate così qui. Sì. A fareci al piacere di cosa è la stessa santa. Perché cosa è successo adesso? Allora, è successo. Beh. Fagando Pasqua alla Cavdania, in quanto la fattura è la vostra scufiera, caldiena da Mulania, e che mi ha detto a scadlo, e este voi, per un cappello, per la signorina Zaira, ordinato dalla sua signora madre, lire 5. 5 francs! 5 francs! 5 francs! Ma roba da madre! 5 francs! Quei non vanno i capelli! 5 francs! 5 francs! Ma roba da madre! Ma finila! Con tutti stai sciucassi! Ma guardè! Ma guardè piuttosto come la stavanda nostra Zaira! Ma che basta! Ma per un turplè squisere! Ma sai che mi chiedi per noi con tutti i nostri bruttoli? Sì! Ma sapete che mi chiedete che mi sopportavano con la vostra amarezza? Ma sapete che mi imposto perché qui è il guerra che hanno messo una tassa nuova tutti te e la scuola con la classe al tasto che ha? Ma sapete che il vostro spazio non ha posto un ruolo? Ma io capete! Ma io capete! E' ottimo qui al vostro capet e non mi dico ora che non mi farò più spandare niente con soldi non ha avuto ma non c'è! 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 Ecco! Per ora dire a te alzando il vostro sangue! Ma io capete alzando il sangue! Ma cosa ho a poter santo Dio? Dette che smesso un po' più di economia! Ma io capete! Sì sì! Io capete! Andarò infazzolato! Ma senti ma facendo! Mi farà morire in pazienza povera ragazzola! Sando al vostro sangue! Io capete! Allora dire a set cosentetti tu mo' il capete grazie papà e se va proprio bene! Grazie guarda fa che tu mo' da papà! Mamà! Sì! Tu sei! Oh! Oh! Buon anno un po' Buon anno un po' Oh! Buon anno un po' Buon anno un po' Buon anno un po' vuole buatesti saluti Allo signori! Ma prego! Ma prego! Si accomodi! Ma si accomodi nel comodo! Sì! Ma prego! Si accomodi! Ecco il giorno che andiamo con te adesso Ehi, signor Ken Signore il conte, permette cadà con un cieco se gli entano poi? Ma quello! Grazie, grazie. Ah, se mio fratello non la trascinava fino a qua, ella non si ricordava di noi. Oh, non dica così. E che ieri sera aveva un'intera e non poteva venire. E ieri sera fu per noi eterna. E' piota, e' piota. E' una trama macchina e ricchette sopede e rimedono più. No, se non stavo tranquillo. Posa è riferita? Posa è venuta un'erichetta a me, amore? No, la dai. A me la vuoi spuse. E cosa si fece ieri sera dai Venelli? Cosa si fece? Ma cosa vuole male? Si giocò a bigliaudo. Ecco, ella preferisce il bigliaudo a me? Oh, no, 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 no. Io non ti pongo lei a tutte le cavambole, le cavoline e le bigliaudate di questo mondo. E così il signore il conte è come se la passa qui in campagna. Oh, quest'anno proprio mi diverto. Come mia figlie. Sebbene che da qualche giorno è triste, pensierosa e qualche volta piange, sa? Sebbene che da qualche giorno è più grande. E sebbene che capisce niente. Non è scampione. Non è bene, non è bene. Non è bene. E le belle note merda. L'homibus è le belle passette. Non è bene. Non è bene. Non è bene, non è bene, non è bene. 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 Ma il signore c'è la sua e la sua. E si vuole andare. E la sua e la sua. Ed è una persona. Noi, non è bene. Ah, ma a proposito, ti amo chi sei ad ora non insumare in fare la cavalca in mattina? Non so neanche in quanto sarà. Vabbè, per me hai un po' con una bella stena, ho belli urcini e cal... Corra, corre, corre! Vabbè, so anche a me, a te farà un vero rapporto. Ma se vuole lasciare la cura a me, me ne occupo io volentieri, perché sono un buon conoscito di Sommaro. Grazie, grazie! Voi fare questa arcaetana, comodi! Com'è, 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 è arrivato! Grazie, grazie, grazie! Carissimi! Vieni arrivato! Quello, che era il pello, una bella sticchiette magna! Eriquitta, ti fai da stare, hai davo base, ciao! Eh, papà, pensate come ho avuto ogni prima? Eh! L'ueta aveva un po' che ne si pio sta sire! Faccia di mai! Avevamo tanti di qui da qua, di qui seppano la mattina e qui ne sono la sire! E poi ne va piove! Allora io ho detto a Eriquitta! Ah, io ho detto! Eriquitta! Eriquitta! Se voi avete capire! Eh, mamma mia mamma, sempre con la testa praglia eh! Guarda qui niente! Mamma mia è qui! Mamma mia, è qui! Ma non è niente, ha detto che vuoi un'oca! E qua il vostro pello è un scar, chissà cosa fai! E se la spanda quella mantellè proprio il mio oca, la vacca verta! Ma per adesso? Sitto! Ma non è niente, ha detto che vuoi un scar, il vostro pello! Era cavalchè di matena! E' stabileva, e lo so anche io! E anche io, e me! E' un divertitore, ma perché il cavalchè che lì è anche da dove non è arrivato in giù a ascoltare che aveva sempre un'ese straggante! Eh, qua non è facendo! A proposito di giù a... Avremo presente con te... Enrico Grazielli, che sarà il quale nel fattotum della gitta sommarifera di Numatista! Ah, beh, sono un po' bravo. Voi, va, va. Buona caroletta mia. Ditto, cansetta al papà. Ma, ma come si fa per liberarsi un po' da Klaus e dal pedro di Enrichetta? Adesso hai passi, ecco. Allora, cari signori, cari signori, e signori cari, e cari signori, e come si passa la seretta? Ah, come vuole, intanto, bisognerà enrichi in tutti i modi. Però, ho preso la guerra. E se ho preso un qualche giugno di società? Sì, 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 al giugno dell'uccemingo, la buona. Ah, e si potrebbe anche ballare? Eh, beh, adesso. E, eh, non si è il canto. Oh, pardon. E lei, signore, il conto che cosa ci suggerisce? Oh, come? Facialo pure loro. Ah, benissimo. Allora tutti zitti e attenti al programma. Parte prima, i signor Gaetane e Gaetanelli zogheranno a prescola, e noi te la faranno una bella sciarada figurale. Ah, che c'è la scuola? Parte seconda, andranno là in Salteina alla meia a fare un po' di musica. Eh, ma guarda. Parte terza e ultima, andranno a sanna. Ecco, me qui si piorezza l'ultimo. Allora, qui si pianta. Rita, Rita. Eh, Rita, porta. Allora, porta via la capilla e prepara la tavola da zogher. Eh, in fuori. Zogher a cosa? Ma come zogher a cosa? Con zogher sarà una tavola da cart, no? Ma è me? Beh, non so. Porta via anche il foglio. Posso fare una pera? Allora, al signor Gaetan, al starabang, que, 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 cioè le, 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 le. Ecco, le. Que, 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 que. Eh, ecco. Que. Perfetto. A che se avrà avrà tutta la sciarada. Ecco. E voi Gaetanei in fronte. Eh, che donna. Che donna. Oh, ma è signata sotto la panetta. Ah, le quattro di sempre è credente. E la sala turccia dura. La sala al spurgiolo. Ecco, e adesso perché tutti i nostri fatti vanno, eh? Vittà? La pucca paraccia. Mmm. Bisogna che stività me pulite. Allora, la zahira è al smiercante, que. Ci genna l'erichetta fanzà, que. Ecco. Tomola strana, eh? Ecco, qui. E, e parlò Filippo. E io ti ho la perte più graziaosa. Sì, da base. Sì. Che era il signor Filippo. Che la dica. Che veniamovi con me l'ora. Sì. Mi credo, mi credo, mi credo. Eriquetta. 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 Ma con chi deghi a me? Oh, che saura. Sì. Vergi mani che visti tu. No. Ma qua, tu. Sì. Eriquetta. 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 Ma me, io era saura qui in sire. No. Una ragazza non ha mai. Sai essere saura qui in sire. Eriquetta. Signore, sa volerla. Dicca. Ma voi che siete sempre un ragazzo. Scusate che è tanto. Ma me, a perché voi siete un puttine troppo brosco. 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 E più. Bisogna preferire accendere. Accendere. Anzi. Accendere. Accendere. Ai. E' un salmega come voi. Che addirittura fece a me. Gaitanin. 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 Gaitan. Gaitan. Se sei basta che visti fede che faccia me anche a strubale su. Oì, signori, attenti che comincippi alla scelata. Primiero. Beh, quanto? La signora porta. La porta è il primiero. Ma, mi perdoni. La signora. Ha indicato una volta. Lui, per polio. E' anche il piano. Oh, archivorta. Allora, mi sfida bene, signor Can. Mi associo, archivorta. Ora, attenti al secondo. Quanto è l'ipena. Ma che cos'è, secondo lei, questo? Signora, il conte. Un moscone, forse. No, 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 no. no, no, perché il Moscone fa ui, 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 ui ne è preso un Moschè perché il Moschè ne fa ui, 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 ui forse un fuoco artificiale hurra, hurra un archivolt a rando ok, gli stameca un archigirandola ok, di acqua arca, arca, c'è un'assidante ora, ora, attenzione perché siamo all'intero e adesso, spieghiamo c'è, fuoco uta, 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 ricordatevi il primiero, il primiero arco arco un'altra è arco che fa fuoco anche buigione sì, anche buigione archivesto oh, le trovi di fessi il me ha il ruolo allora, applica quanti cammini che lo dico io? sì, avevi perso tutto però a sé no, va bene arco baleno arco baleno va 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 adesso, allora, passiamo alla seconda parte vlagnader le salteina per la mei un poche di musica o andagna ora in tal pre sì, 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 in tal pre ah, bene, insomma, allora, vista la maggioranza andiamo pure all'erba mamma ma io faccio il ecco, padre io faccio il e il commenta era? no am spiesti i mondi ma me faccio delle quelli cavalieri e la mia scala con tu, padre e allora sei da star qui ti vogliono? ecco e io le belle che mi hai con i suoi gigi mi immagina fitto te bianca insenta l'orango e il tango e me? niente oh, benone beh, come me ma se sta di mondi messa lì ma di mondi e poi di mondi ma la mamma ma la mamma quella fa tanta la parma di mondi seria e poi ahiè la zairac la fa la sbatta grazie oh, grazie oh, ti prometto che quando scurrà la te ha cercato la tua sbatta di mondi oh, forse oh 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 oh, grazie oh oh, ti prometto che quando scurrà la te ha cercato la tua spada c'è il brisa me eh ma sta portar spirit, eh no, no, no stavolta no, Zaira, no stavolta no ma è da dismiare che non so che non sono brusca che non sono bani eh adesso non so che non so non so ma non so ma non so quindi è quinci Franca Manza, Zaira le alman e non sono stati con il corpo non sono bani sì bani Filippo ma è a torre o bani ah, ah, a torre o bani sì e poi di mondi anche ma come se non bani la prima volta sono stati tanti riflessi anni ma dopo invece io penso più seri amanti no ecco, ecco proprio come io ho fatto me io penso io penso più seri amanti e io ho visto io ho visto che i nostri caratteri non devono essere tanto d'accordo che se avessi seguiti anche se ora è un pochino parte di te sghignoso conclato e allora hai detto hai detto hai detto per me eh Filippo troppo non so per capire tanti cose per capire che le stesse lavare un capretto al nostro eeeh ma comandante d'accordo proprio quello che io penso a me preciso eh sicuro sicuro manca te per pensare sicuro preciso in tutto e per tutto d'accordo d'accordo te te non vuoi più avanti o che è voglio proprio da dire mi dici sì francamente sì e poi sì oh ma benone d'accordo te ti dico in qua a dire una cosa per un'altra mia leader di mondi sei qui te te ti hai preso con portata galantone eeeh 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 più va bene eeeh 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 forse il tuo caro Conte Enrico ti sta aspettando eh è meglio che lo raggiungi prego prego accomodati prego eccoci a seguito allora beh per me eeeh mi hai da andare fuori con permesso a seguito non ma eeeh ha schiopta la rabbia ecco cos'è ha schiopta la rabbia ma io che be' ha schiopta la rabbia ha schiopta la rabbia ecco cos'è ho detto ho vinto al canello ecco è qui erichetta erichetta eccomi eccomi siamo che la vostra pasta è l'omega Eh? Sì. Vai fuori. E... Steremovi di Londi, signor papà? E a voi se vi interessa? Oh, niente, niente. Admendeva che sì. La totalaria adesso è un'admende un pochino immaginiale. Ma no, 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 no. Eh? Mia non sbagli mai. Per se fa mangiare, eh? Sì. Ma sei tre. Sì. Ma sei tre. Sì. Hai bene di... Sì. Ah! Mi dà il mattino. Adesso alla stragezza, e ti posso dire di voler di mele senza premare. Eriquetta... Sì, dicendo? Quei hai voglia un rimedi, Sè? Quei hai voglia al curaggio. Qui fa d'uomo essere...eroi. E tu ne ero a te? Ah, non so me che... Ah, ben me sei! E cosa voglio fare? Metterli con il spaglio al muro. E poi? E poi là, con francazza e con courage, dir la sua rasana. Eh sì, ma dir la sua rasana a chi? A chi? A Dracula. A tuo peder, no? Oh, allelu, allelu! Permesso? Allelu! Allelu! Oh, che pederà che fosse? Encio! Com'è tu? Me? E non è lì? Anche a me? Anzi, è la mia sera! E per cosa tu? L'ampere un po' tutta la sua saura? Ma no, ma no! Non ho niente! Comunque, lì la famiglia trattarono un riso da amiche. E... E cosa vuoi fare? Semplicamente, slungherono la sua maniera, traerono un gran sospiro, e con le grumi aiuti dirò Filippo, mi è l'impospio, mi ha il bagno a Gigi e voglio farlo dal papà. Ah, e se avete fatto accendere? Se avete fatto accendere, l'entrò è dalla supera donca, che sarebbe finita al fu, per aiuterla. Ma dove vai? Parola! Parola! Ah, mi ritorno è l'impospio! Ah, vuoi farlo? C'è già il bagno fuori dal papà! Oh! Sì! Ma adesso così si fa! E mi ha sempre per aiuterla! Eh! Per l'ampare! Perché ciò non fa niente per niente! Eh! Se mi ha dato una maniera lì, lì può l'aiutere con me! Beh! Mi sembra giusto! E cosa ho da fare? Eh! Semplicemente! La sera spera la calma! Oh! Signor Silpo! Lo ho dire una burla! Lo ho portato al cosquista un brisabante! No, ma mi ha detto che la calma fa burla! Ne da burla ne da ban! Allora vuol dire che non vuole un brisabante al suo Gigi! E la nonna vuole validerla! Lui mi insegna proprio un bel mood per spiegare! Eh! Siamo andando alla sfida! Ma è un nome in serie! Mi prometto che farò tutto quello che gli ho detto! Basta che io faccio tutto quello che mi ha detto! E se poi ci sono i Gigi! E se poi ci sono i Gigi! E se poi ci sono i Gigi! E magari! E quindi! Quei! 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 E si giuri il solenne fatto di alleanza! Alleanza offensiva e difensiva! E piuttosto! Il po' la Cagliateca! Lile è proprio una gran bella e buona ragazza! Eee! Ma che grazieuse! Ecco! Sono i propri, proprio i grazieuse! Ma la mia! Ma la mia! Se poi li ha parlato! Scordia perchè. Ma no! Ma no! Non si scerzava! Ma no! E poi proprio un bel scherzo! Qualche appareva, eh! E perchè? Ma niente a sé, ma devo far dire. Dove ai più a prevedere un consiglio qui al Sfurey. A chi a me? Sì, proprio a lui. In certi momenti bisognerebbe avere un po' di spirito, eh? Prisa sterile, compagno adesso, la capella aperta, compagno un collegio, specialmente un po' quando svolverà il Don Giovanni. Papà, grazie, approfalo. E anche a te, Enrichetta, a voi dare un consiglio. Accorda i tali proverbi, chi troppo abbraccia non la stringe. Ah, ma io anche a te! Nooo! Ecco, beh, io ho detto a me, con permesso. Ma cosa hai detto? E se è anche lì da stare a stare insomma a lei, mi vado a fare un giurteggio dal prego, eh? Un po' poi dentro è un cacchier sicuro. Però prima la snera brisa corte che era chelta, eh? Comunque, calvada, calvada pure. Con permesso, benissimo. Ma hai fatto il cervello? La nebrisa una bella educaziale, se è quella per dire una sorella da nuieres. La banca, Laura, la nuierà è scurizzata. Ecco l'uomo di una gentilezza che la consola. Ehm, eccoci qua. Allora, cosa è scuragna? Eh, qualche albolo. Per adesso. Allora. Proprio una bella giornata il cuore. Ma una bella vecchia. Ma sempre? Sempre, ma. Ma scusa, scusa. Ehm... Ma ora... Ma la mo' dire che è il piove! Eh? E stanotte? Oh, insomma! Stai ad essere una barriga stanque, che vada pur di! E le più scarpe stan suoi che andan di! Ecco! Allora possiamo andare? Sì, vada! Compromesso! E andano? E la bambina è quella che è lei. Ma la bandina è il cammino... E li come? E io? Io? E io? e qua, muando e qua, muando un secco e io che ho il caresso signor Filippo insulante ma, signore prima hai ancora più niente quando io ho detto che mi volevo più male e ora, se ne so per la pausa e la scuenza è ricetta se ne so per la pausa sporo ordini ho, è bella si no lasi sporo Certo. Ma la sposa va a chiedere le sue pesche. Quella era bisogna fare la moglie che era. Sì, sì. Brava mamma. Che era il polimoglio. Sì. Allora. Avete le mani? Avete le mani? Ma insomma papà. Avete visto che sono vera dalla bella? Vli per la dirte più vostra viola. E vli per la morire con il vostro e noi per il là. Forse. Allora, scriviamo la modo per voi con voi. Perché è stata grande. Ma mamma, 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 mamma. Lì prima la ditta. Chi ti sai capire la pagher? Che era, che era. È brava. È giusta. Ma come? Ma come conter? Mi stai con lui, no? Ma le notti. Una volta che la scura più e me. Oddio l'amico ma scapesca te ne ho spocchi omen. Al più il vi farà. Al vantapis d'un otello. Quando al capesca la sombra usa la scura più e l'ho. Ah, io capire. Fer l'arabini. Fer l'arabini. Fer l'ingelosia. Fer l'ingelosia. Fer l'ingelosia. Brava mamma. E qui a io capire. Ma riesce a cantare. E equivalere. Ah! Finalmente. E' tanto tempo. E' tanto tempo. Sa' che noi la scendiamo. Allora, scusami, ma come direttore di questa città, soprattutto la scelta di Annancio Brattini, mi hanno fatto perdere nel tempo, sanno. Ah, è tutto a posto. È tutto a posto. Ella, o madama Ouigella, cavalcherà, mercenia, il più personale della compagnia. Diceva, madama Ouigella, signorina Zahigua. Non spettate anche a finire. Non spettate anche a finire. Ma prego, prego, si accomodi, signore Riffonte, ma si accomodi, ma è comodo. Ma prego, prego. Certamente ci divertiremo, eh. Capirà, in così bella compagnia. Ah, sì. Voi andatevi. Eh, cosa vuoi dire? Non vuoi dire andatevi perché l'accento è il pubblico. E per cosa? Tu li so, e andatevi. Per cosa? Oh, insomma. Ah, sì, so portabili con tutti i vostri per cosa e per come. Eh, e io andate andatevi. Ma, signor Riffonte. Sì. Anche lei, cavalca, ne è vero. Ma che diabile e che scavallere sta. Ah, 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 ah. Adulatore. Ah, ah, ah. Eh, che fastidio, è andato. Ma va, adesso va. Eh, signor Conte? Sì. Signore, il conte, allora, a mattina, è qui, per mattina, su marchi e te, per mettere il spettapriso di Reddy Kers, ecco. E oggi la cosa, signor Gettrino? Non lo sa. E oggi, ma mio padre si è confuso. E così, signore il conte, quando penso di tornare in città? Probabilmente, quando torneranno, lo signore. Certo che si sta bene qua in campagna, quando il cuore è triste. Oh, sì, 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 la campagna è fatta proprio per chi ha dolorato. Ma perché anche lei soffre? Oh, tanto, ma tanto, tanto sa. E di te? E di te? Di di di? Di di di? Di di di? Di di di? È becquania! Ah! È contagiosa? No, non mi ricordo, ma mi chiedo, ma qui è qui. Non so, perché me sembra della crania, megacrania, ma dai, no, eh. Ah, ah, eh, ah, ah! Ah! Oh, dove arrivare rumori dal violento. Il suo mariteraio, forse? Ora, vedendo. Felice lei che non soffre che di emicrania? Anche di cuore soffre. Anche di cuore soffre. Di cuore soffre. Oh, benessum! Il signor Filippo. Adesso al volpeccare, perda la rabbia. Ah, signore il conte. Mi diceva che anche lei soffre. Forse è ammalato. Oh, poverino. Sì, signorina, ho tutti i sintomi della febbre. Terfana? Eh? A chinino, signor Conte. Scusi, bisso il fatto di chinino, signor Conte. Il signor Filippo. Oh, ben, al signor Filippo. Sturbia, forse? Ma no, mochetto tete. Sì, era qui che si parlava del piu e del vino. E di febbre terfana, vai, vai. Oh, prego, prego, seguitate pure la vostra conversazione. Io mi accomodo qui e continuo a leggere. Dunque, dicevamo, signore Conte, posso chiamarla Enrico? Sì. Caro Enrico, mi diceva prima che qualche cosa l'affligge. Sì, signorina, oh, vi sono dei mari da cui o si guarisce o si muove. No, 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 ma noi cercheremo di guarirla, sa? Misero! A quell'età si inchina, all'aria verità che afflitte ogni core. Ma con chi c'è l'acqua, signore? Ma non mi va a di, sa? Legge, legge, legge. Torniamo a noi. Lei, signore Enrico, non deve mettersi delle brutte idee per il capo, sa? E speri, 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 speri tanto. Si disse, lasciato di speranza, non lo vuoi che guarda. E atteggia al malumore il labbro pendente che nasconde il suo tremore. Scusa, Vance, ha portato l'amica che la stava in assenza dei clamori diversi e postò un po' anche. Domando perdono, mi è resa al te. Chi è che ha preso i taluffetti? Ah, questo è il filippo. Ah, questo è il filippo. L'aveva presa testa. Il filippo era tanto in tanto a guardare fuori tutti su mare. E vanno al suo mare. I gnaus dunchi i gnaus. Buone, signore. Conte Enrico, che a mia volta io le faccio una confezione. Dica, dica pure. A me piacciono tanto gli uomini timidi. Perché, sa, la timidezza è il certo sintomo dell'amore. E invece odio. Odio! Di cuore? Quelli che vogliono fare i forti e si danno arie da conquistatore. Ciascuno ha turno ai gran cerimoniere. Celebra Vincenza e regge il candeliere. Ossa, ma adesso non è passato di lente. Ah, se, eh. Ah, se, la sola è un'ufalza, eh. Se, 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 se. Ah, un'onta. Anzi, una bisonta. E regge il candeliere. Abbiamo avuto la crada che è bianca fessa brisa. A me diceva giusto. Oh! Col quale fa roppo e continuo. Dove sta? Dove sta? Quel film a guano. All'andana a tirare fuori la musa. È sotto la chiesa di San Mignato, fin dal 1850, caro conte. Come vede è inutile sfidarlo, eh. Ma forse è giunto il momento della grande cavalcata. Ecco, ecco. Odio. Odio. Odio dei rumori, forse questi, in tutti i suoi archi. Eccoci qui. Eccoci qui. Eccoci qui. Oh, oh. Se spagna tutto. Ah, sì, sì, sì. Allora. Tutto è pronto. Ah, io bello per fare il sport e tutti il resto. Per la classiana, eh. E per te gli spena una bella surprise, eh. Una cuslina che si oserà di molti. niente di meno che una guandrà palassa che io fa standa rifatta alla schiena del tuo suo mare. Ma cos'è di tutti i stessi cazzo? Ma finila! Poi è del nuovo il pranio. Ma cos'è la tua madre? Eh. Anche lì? Eh. Signor conte. Signore il conte, lei che ha studiato, può dirmi cosa diavolo è succeduto? No. Io non ho capito niente. Anche lì? Anche lì? È capito sempre che sì. Edichetta è due. Edichetta! 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 Eccomi, eccomi, fonsi mai a l'auce. Oh, la sei fatta una bella fontena, eh. La sta proprio guidando. Va bene come vedere un'obesia badera che ha su casa lì. In me invece, infatti, il mio allegramento. Sì. E piuttosto avrà un pensierino. Avrà la classe testa. Queste fiaure che le queste. Bellezza per bellezza. Oh, grazie. Non mi faccio più. Vi assopi che il fiaure non fa quanto è dal grosso, eh. Ma quello che vuoi dire? Allora. 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 Segui tutti in ordine, eh. Andagni a porta. Avanti, marchi. Eh, pian pian. Al mar, la reddadella da segnali comunque, vai. Eh, allora, sostendo steli. Degito giudesti? Porta, andai. Vuole andare? Andiamo pure. E avanti, metterò la faccia del mar. Avanti. E io spena. Pagalo un'ora. Ecco. 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 Tocca a loro signori. Oh, tocca a te, eh. Questo che sei poco avanti, hai pensato a me. come? Non c'è poco avanti? Cosa che sei? Cosa che sei? Che vogliamo andare? Oh, c'è, andando! Andando! È come? Scusi! Ascolti, inta partevi che è presa? Il vest? Il vest? Cos'è? Il vest? Cos'è? 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 Cos'è콜? Pianco Giovanni mano da! Ce says.. .. Cos'è? Come pare? Come pare perché? Pagno! Andiamo a dare su maggiore! ma allora è stata spiegata la scatola è proprio la scatola una ragazza con me gli ho un popolo ho messo a me se non si è l'occhiata ora ci sono mai anche quando ci sarebbe la madre è in qualche modo avanti alla vetta cosa ha avuto? vendetta si, le proprie nasali bisogna vendicare e posso un po' anche se ha le crisi e se le povere stavo davanti adesso, cosa fa bene Rita? Rita? ah, sono qui allora, va a dire subito alla signora Enricchetta che mi ha detto venga la mamma, va al solito va, la vieni al solito ah no, aspetta un momento eh, dica a San Mecca a voi, padre ma perché cambia idea? no, non pensa che cambia idea lei che il professor ha ancora avuto il suo padre e allora lui va qui anche lui, è assolutamente vendetta poi ci farà già, provo ma per l'arte nuove, trinta vabbè la signora Enricchetta non è la mia non è la signora l'arte ma non è la sua l'arte è la sua è la sua l'arte non è la sua E' una zucca, eh? Non ho capito una sedana, non ho capito. E' una ricchetta da quella riva! Luca! Non va bene questa, che è il signor Filippo, arrivare dopo anche a me. Cosa vuoi Zaira? Beh, niente, le dite in quanto le va. Ah, il signore, ma mi hanno proprio niente a che fare con il signore anche lei. Ah, sì? Guarda che a me, io ti direi che a voi, i diritti sacrosanti può anche. Sto nemmeno i diritti? Perché non ci siamo lasciati? Ma tutti i letteri, tutti i duramenti, tutti il promasso, tutto uno e nient'altro? Io li feci credendo che fosse un uomo come si deve, e mica, ma forlante è un bagaglio! Stiamo da parte adesso che io torno a me. Sì, sì che mi torno a me! E non è per mancare, che mi torno a me! Grado! Buon giorno! Ma Enricetta! Ma... Ma... Signore! Ma non è amore! Sapete cosa si vuole da tu? Tu ragazzucchi in panche del cacchere e nient'eter, tagliamo il moda e finire tutto questo e noi, se eccome... ecco... bisogna... che ci venga il paga la sua domanda al tuo papà, e dopo quando arriva la mia moglie vi sarà più del gelosì! Non paga se... Ah benessuno! Ah benessuno! Messo il papà al di tornare? Eh... Eh... Se il papà al di tornare... Dice noi pensare un po' allora eh! Adesso... E per me l'avrà in te! Blagna in te! Eh... Ah... Ah... Carazza! E conenga, eh ragazzi... Oh... Scusa un set... Mi cartello da abbrassare a te! Eh... Oggi è... che esce a bilipo che ha venuto per la cacchina! E noi... tervillici... ad è che quando si va per la cacchina... dopo... qualcuno... si legna! No... tervillici... OHHHHHHHHH Tornami da capo! Ma come ti fa? E' anche Vaiutro bello però, eh! Ragazzi, stai tranquilla se è vera miente! Compromesso! Compromesso! Credo che ESSACOMNA torure! Hola Signora Eriquetta Santa Fiobela, un stela! Bene. Così devi investire con la stagamera. E me ne dica sta qua. E te, Gigi, con vela? Male. Dobbiamo stare più bello zio. E me ne dica sta qua. Buona la stagamera. L'è tra la stagamera. Vuoi sapere, cos'è la stagamera quella? Gigi, andiamo a dire della vostra mamma. E il signore? Signore? Fiasco, Dio, fiasco, fiasco. Proprio dal don? No. Diciamo esito contrastato. Contrastato? E perché contrastato? Sicuro. Questo è andato a sapere in tagliare la stagamera. Chissà che bella logica. E lì è accanto elementare. E quale a far benone? Perché l'avessi in guardia una pombra più usata che se l'avessi in guardia una pombra più usata a quella che ha diso di Pustau? E chi sarebbe quello di Pustau? Me? Semplo. Che pruncappretti. Alt'ora in giro una ragazza a pagare gli passetti. Sgosti e nient'altro. Oh, ma guarda, va con la scala pulita. Lì va per proprio i compagni di Calprin che predicheva bene e poi fa tutto l'arverso. Ma sì, ma guarda. Sicuro, sicuro. Se c'è per te, quando Lila mi ha detto Filippo, me ha toglopato. Purtroppo, poi hai la piste pulita e adesso ti vuoi più. Se in casa mi ha detto che fosse un uomo che crede nel don, che torna il don sul seno, cosa sarebbe successo? E lì non so che prezzo la rende a un poverso grazie a compagni a me un gran spiazzare. Perché adesso la vieni a fare il predico. La princettia venga a vedere se lì. Filippo, me quando pensi al scorso del terreno ho sentito spiazzare. Sì, perché lì la spiazzai. perché mi ha detto che me fosse trappata via, che fosse messa a fidere, la disperazione. Ma invece, siccome me aveva una bella scrulla al spazio e aveva una cosa che mi spazia che meriteva, me la sono diventata un impostato. Un uomo senza princetti fino a che, eh? La smetta male una manca e che la dica chi è nuotter du la più bisogna predica. Ed ète come che questa arriva che ci arriva! Ho portato la pallaogo! È tutto. Oh, 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 oh! Buongiorno, buongiorno, Signore, signore il conte, sono venuto a sentire le sue notizie, con trepilazione. Grazie, non lo permettono, vero? Oh, lo prendi che l'ha fatto il petto? Eh, caro conte, caro il mio conte, come vede il mare pare in burrasca. Oh, ma io mi vengo ben avvigliato, ti ho venuto a chiedere le notizie, se li strappassi della calcata sommabitura non le avessero fatto male. Oh, male che le abbiano donato un'irritazione irritevole nei nervi. Oh, 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 non vorrei essere stato io, la causa irritante. Oh no, signore conte, ma lei non può far del male ad alcuno, sa? È anche quello che dico io. È che le donne, vede, sono soggette ogni tanto a questi momenti di nervoso. In questi casi mi basta semplicemente aspettare che il mare si placchi. Aspettare? Sì. Lei dice bene. Allora io potrei andarmene e poi tornare un'ulteriore volta. Sicuro, bravo, quando i nervi saranno passati. Eh, perché passeranno, sa? Eh, se passeranno? Lei crede? Ne sono certo. Esce anche lei? Se, allora ancora vuole che stia qui a sopportare una donna nervosa nei nervi, non ci penso niente. Non è una cazza, 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 non è una cazza. Ma a me, a me è io dal coraggio, eh? Potranno andare a porre. Oddio, ma che ne può me anche un ragazzone, eh? Se la ti cambierà, me è così da fare. Uffa, la caldirà il sede, ma che ho avuto cantegno con la ragazza in casa a fare la mozza, eh? Eccoci qui, così, così succede. Una di quei sgracce, sì, sì. Gaetanin, mi devo a sedere e assarri in corso. Sì, sì, sì. Scusate, 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 scusate. Gaetanin, Gij, il nostro fiore piacente, il figlio da noi prediletto, il volto ormuglier, da tutto qui, Il volto ormuglier ha una ragazza come ha svolto e ha un santio resiste le vigno da soveggio con allegro un aiuto a domandare un metto orla se no al mor purè al nostro fiore morire per se può la se va più finessa e finì pure e me davanti all'egro del frutto del ventre mio ha un so resiste e io ho del parmaio sia da per vostra che da per me o io ho fatto bene così in giro Benissimo! eh, avete detto che io vende al parmaio sia da per me allora mi ha posto un'era fea qua che da per me primitiva sedia se si ma voi come pedro il vostro rifiore abita a fare la domanda al pedro della ragazza ma saverne che quello non deve fare guaiossi dun guaiossi 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 ha fatto i pastelli e se il signore che me è la pelle più cattiva allora sappia da spiegare a me guaiossi dun guaiossi gustare guaiossi ma no 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 poi quello direte che va là a sbluttire un cuore ma poi lo ne brisa un pedro boh povrò me non capì niente fare un sigaro fare un spray fare un spray e poi lo ne brisa ancora che lo vigniamo con una brisa da fessiante ma 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 scuola che è tanto per dire quello chi è il pedro? è un suo amico un mio amico un di vostro più grande amico si chiedi a schierga e dà però un luci si chiede kelly no 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 che significa People ha presido che me ha invece all'agro ma interessi ma rimà dosi quale am anunci con iiminato rippo rifo ed poi rifiuto Voi, voi avete visto una iena ha vinto ancora un paio e non comprate la vita E me posso parlare perchè mi ha messo al mare? Sì Se adesso ti rispita No, risponda signore padre In tal metra tal man Dò io forse detto che ti vanno messo a innamorare qua l'altro Ma io non voglio essere giusto la guaiata Ma si non asso, Peter Non so che serve a me ma bella volta Che volevo dire A voi so che hanno sei di pieno Sì, ma se tu ti dirai anche se sei un Peter d'Arcota Che vuoi dire? Tasta frola Mi stucchegna Sì, papà Papà Allora farò qualche rì Però spero che se per l'ultima volta E che avrò un primo scatto nella banca No, anche se è il papà Bravo papà Sì, bravo papà Il morituro ti ringrazio Rita 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 Io sono tu Eh, al Trà Oh, io Manda pure il calo Va dire la signora Galetta Che ha quel papà che ha bisogno di sicarica No, 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 stop e se va 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 ma fai che fai che ferme fai che scotta e se scutilla se non lo prepara ma che ho fatto tu sei la ferme? e te rosanna a schiafadrà o seguire le idee di l'erante? finita e valla da là ma guarda te che roba e se scutilla andate lì a tambur batani perché altrimenti quella schiava più raggi di un bus e vabbè ha l'espirazione adesso si è in ball e bisogna ballare il canchetto con la tigre hai smergato il canchetto con la tigre adesso ti accalò eh a Markman, papà, Francazza dignità le pari soffiol le bralban della famiglia e quanti storie a Markman, papà Gaetanine eh fai moda vada che sia un nome eh non stai di brisalea a dire dè me non cam ne mordo eh mostrai una volta tanto che il breg e il breg a li purtevo è per il frutto delle vostre viscere eh Gaetanine eh le vostre viscere Gaetanine eh le vostre viscere le mie viscere le mie viscere adesso in base alla tigre la spagno a ieri con il pregno più qui eh 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 Ah, va bene, ma andè a saper far fare dolciate. Se scanno di più, di meno, di meno, di più. Ce vengono da fare un problema in matematica? Come si sa fa simpatico, eh? Non è più fare dolciate. Ma vanno, fanno tu. Se vanno qui, se vanno più brutto il giornale, le occhio fatto al mio paletto che è un bacio mi dire pure sedere, mi mettete sedere anche a me grazie Gaetano mi mettete sedere anche a me adesso già mi metete Gaetano, come stai? beh, stai benvenuto perchè? o io fossi la signora ma lei? no 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 i piobenti anche la casca se voglio ma non male, perché facciò per la porra di cancone eh, eh, bravo, bravo al nostro Gaeta oh, mi erano a posto eh quando ho un toccato, ne avevi a sorgettana rosami ma sa come si dice eh scherzi di mano? scherzi da villano ecco allora che ne... ti erano in mano eh 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 l'erichetta, nostra fiola, cos'è? eh la sta benone anche lì ma non si può fare perché non si può fare ma non si può fare non si può fare per corrispondenza non si può fare per convenienza grazie ecco non so come fare prete e che è tanto? è un tabacetto e anche un gran bambardo bene 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 io devo una prese e perchè no? eeeh ma che bella tabacchiera che viva eh le tarzan le bella tabacchiera e le banche al tabac hai tu l'ha una prese? ma cosque le banche eh? a tabacchè con il tabacchino eh 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 ma maria la pazza vabbè che allora dovresti maria e poter ricaricare ah perché voi allora ci amaresti poca una cando 3, 4, 6 si ragazzi dopo un uomo che me ne so neanche ha ne arrivato a mandare la bacata in cammino e ora c'è Maria si cacca no 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 ha ne pensi neanche neanche poi neanche ma ne... no è una bella cosa ma ne è che è che la ripso inservi lì 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 come sarebbe a dire volevo dire che per quanti stai nelle colbrelli per quanti manda bacata hai sentito di più fare grelle per la testa sti bandetti ragazzi ma mi fiola no no è sicuro no no perché del volo sti duven sti la pranzo è una maravaglia eh? oh scurito una pioffata maniera Hanno da questi davisca sunè di quelle eh? no 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 nemano ha messo niente 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 ha la mia sera niente 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 virgola niente �guardi è meglio che c'è, perché il sobrino si può scappare e fare se non si può fare, perché i fatti di fame si può andare a fare di molti, di molti, di fatti bisogna che anche voi andrà se niente, ecco ma le uova ti sono sempre in battacalcione sono promette di essere pieti ma le uova ti sono guardate, guardate guardate, guardate mi sono un succarello scurito anche, scurito allora le uova ti è pronti? le uova ti è le uova ti è sei pronti? e 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 mi fiole vostre fiole ma da un mai si passa da un mai se ti ho che mi fiole se sarei in amore senza mi parlare ma così pare se vi pare ma così pare voi sei un buzede ma sei un buzede la vallega e va tornare a dire ma mai mi fiole la voglio educarciante capire che la venga a dire a sapere quanti volte la stanno in tondeo ho fatto questa volta per far d'orto che lì è una calogna è un maravai se avete da dire che l'insulanza un cavallantomano so perché avete detto che vostre fiole di fiole fanno la morda o mai ne passi voi sicuramente perché anche a dire che tutti i fiole gli si fanno educa me i compagni Wuster però la labbrisa dei thunder come Sertoni che ciò smette ah Sertoni bella quella ma che gli spredi mi ripieni in giro parca eh le volte i danni api delle acque chiese che i fiole di fiola le un'angelo le volte i danni le anche i cornelli eh beh adesso staranno a vero che era i miei gattani tuoi guardavamo guardando tu asiya tu lo so innamorare un santa non mi parla mai naturalmente io ho detto è tutta una calogna e adesso voi che alleggeri anche voi ma papà mi hanno sfruttato e io mi manino il coso scusate di queste mesi parole per cosa c'è confusa avresti forse fatto quel compagno si 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 ma papà non scurita anche se non mi vaga fuori da mare e il baira che vedete a un giovane e il baira eh? si ma vedete no ma si tolla bacca della verità eh? ma sei di lavagna vostra ferra che sei di Sanforex e onesta e sincera e buona sua adesso adesso è bene qui si è persuaso adesso che mi caluniero un'anze ma mi... eh... si è persuaso che abbiamo tutta un'ora la mia famiglia eh? vargugnere ma mi ci tieni a us vargugnere reclame il nostro da scherpa andate da me guardate il vargugnere vargugnere ecco vargugnere bambugnere per un'ora il caffè di una gatta e il caffè di una gatta perché andrei preso del vostro fiore cos'è il fiore che ha preso? cos'è? e forse il fiore di un leder e il fiore di un leder andi fuori da qui che vuoi provare e ora fuori di questo! scusate vi ne ducè tu vi ne ducè beaaah Grazie. Bisognerà rassegnarsi e lasciarsi. Molto presto te hai da dirlo, non è un po' spisa stessa da te. E cos'è quella gna gna? Sigara è a disperarci, a rovinarci di più l'anima e il fegato per niente. Ma perché c'è se ti cambiò più davanti? Ma sei algeva, a un manieva. Ah, sì. E' una buona di fare il clorambus, eh? Ah, ma ha fatto un lavoro. E intanto, non parlai a chi ora, al davilambus. Vuole andare via? Così non ci vedremo mai più. No, a te. Niente separazione. Scapperanno via? Scapper? Sì, scappervi da qui. Dove sapete che è dal porto. Scapper? Sì, scapper. Ah, dice, non si può fare. Scappiamo pure. Detta, e così sarà fatto. E che lì può fare la cosa giusta? Come voi, ora, quella di lasciarciare quando è lì in porto. Ho pensato a tutte le conseguenze. Non mi piace. Se vai e ti traccio a me qua, te. No. No. Solo per dire che, senti un pazzurlante. Me? Se proprio un pazzurlante, presa una volta e ti sveglia in volta, perché invece di dare di buon consiglio a questa brava ragazza quella, senti la feri dal me. La feri dal me. Se sicuro me ha dei soli che chiada il courage davanti al perecchio, al stale e combatte... Ma, 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 quel c'è un pazzurlante. Se vuoi fare il courage, me ha tirato che fra un'ora l'orso malaro ha tirato se. Ah, me l'ha ricratto, ma neanche ho scoperto. Se la valdech me, dico di quella, Laura. Ma, 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 adesso facciamo un po' vedere. Avete detto tutti in fondo al perecchio, indogli la capanna, eh? E poi stendete a stare lì, eh? Ma, 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 che me arriva sotto. Adesso, dai, non ho certà, dai, su, 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 su... Forza, forza. Ripa! Ripa! Oh, quella di feri incossa la pertenzione, se non guani. Ripa! Sarei, o che te ne 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 ne? Ascolta un bebo a te e sempre che se furti mi accompagna quanta, per te vi mi diteghi nella taia. Non credo proprio che... Allora io proprio bisogno di te. Tu, un'netrasburgo l'altra, ecco me ho preso davanti di quel calpezzo che qua a me davvero a Mulero mi ha abbracciato e poi ho fatto una diridea ma se mi frega la roba sta tanto scopo ora ora! pronti! ha ne ha uno i propri posti di combattimento che ha detto che mi ha generato? in questa lingua ti intendo andare a dire la signora Juspeina che me a San Quello e poi dopo ti andare a tour senza perdere prende la natura prende la carta e il calamello e poi porti in cosa? in tutta la capanna e poi nel dardino e poi cosa vuoi? non sarei un po' dopo, non mi preoccuparti eh mi raccomando eh e dopo devi tornare qui? tu tornare anche qui, sì 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 però mi ha partito dal mio braccio ma io devo puntare eeeh ma che fai, mio mio Dio che ho visto il mio piede con il mio rotto perchè non è la vergerina ma non mi ha dato tanto cosa mai avanti avanti medicale no no non si non mi ha dato tanto che ho visto che mi ha dato il calamello mi ha dato la bingliette calma della Juspeina per dire da dire qui Oh, 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 oh! E' la faccia anche questa riva! Mia, che doveva andare... Tutti in corso, però, andate! Buongiorno. Rivenisco alla signora vostra. Caro, caro Filippo! Ma voi senti tutti i complimenti? Alessami pure che andate a essere sti sti. E a me lo scordi. E l'avoro vivite? Ecco, ecco quelli in via, ed ecco quelli in via. E allora prego, che si accomoda pure. Che si accomodi. Compromesso. Signor Filippo, lo quando al fu presentè que a lui, al fu arzbo con tutti i riguardi dovuti da persone educate ad uomo educato. Da persone educate ad uomo educato. E va e non ha. Se ne va e non ha. Dappo, al fecapir, davar degli idee, sarà la nostra Zaira. E noi, considerandola un galantuomo, acconsentimmo. Acconsentimmo. Che ne ha ringrazio. Grazie. Assi ringrazio. Dopo poco, per capir che, insomma, lo e nostra fiola, i Ducaratri, insomma, ne andevano presi a tanta corda. E poi, il segno della Zaira, riconosca che noi troviamo un'osservazione. Ma, va e la Gaitanin? Va e la Gaitanin? Va e la Gaitanin? Va e la Gaitanin? Sì. 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 E con la nostra fiola. Va e la Gaitanin? Va e la Gaitanin? Mi ha spero che adesso lo leva il caffè abbastanza. Eh, il caffè abbastanza? Sì. Se no, mia moglie è un po' tornare a te. Dunque, un po' tornare a te. Allora, poi, che ha il capo brisa, spiegatmo qua, Gaitaninin? No. No, no. No. Allora, caro Filippo? No. 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 No, no. 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 la mia moglie, la grande e loro fanno passare dove sta la Zahir ma che ha detto bene che la Juspeina qui del volto ci ha fatto dei grandi chiascetti la Juspeina le vuole per rispettare e per rispettare la sua famiglia avete capito? avete capito? avete capito? scusa, voglio porra cascata comunque insomma allora, come non detto alla curta noi tra i mandanti al piazarvi non più onorarci allora gentili signori allora scusiamo me accadeva che la mia presenza quella fosse che accetta e invece mi trovo a fare il terzo incomodo a questo punto io tolgo il disturbo augurando a voi una buona permanenza e per me buon viaggio eh, buon amore scufione ma 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 io ma ma misteri mese ma ma machte eh ma 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 un figlio incredibile di queste anni azzero l'inclaffazza e voi? e niente? ma si vu un nome e voi? voi non è l'anagrafe contro lei cosa l'anagrafe? finisce? altrimenti me ha inventato i grossi oh, io spena, sapete cosa stai? cosa? niente e' il suo nome dove arriva la bestia? su parte da esposiziano tu fin là si proprio adesso a che con un club dai vostri amici poche amiche amiche e' c'è zitto zitto che dai quella sei ma cos'è? non mi sa come l'ha con quella signor Filippo poverina ma cos'è? niente ma com'era la vita che c'è seria? sono mega seria ma tampella madonna di sedulù io lo so papà, cos'è? ma niente, che avrà sastare? e io lascio stare chi sei da su me? ma cosa accade? adesso mi conoscerò? ma tu sai da su me? e ora ora che stasera si invadirà eh sì, assolutamente vuole andare via, sa che le ricchette e com'era la ricchetta? la ricchetta, sa la mendole, le ricchette adesso andrò a cercare il cartello come sono? ehi, così se non va a tir quella la Zahira va a darci a schermo un po' ah beh, ma sì, già di quanto aveva fatto adesso i popper e vai! Zahira! Zahira! sì, adesso cos'è? cos'è? ma non ho niente, te dai e te te l'avrai svegli in tanda la tua madre ma me ha il capelli cosa e in calmante perché te si che tu metterla a fare quanto aveva da fare e cos'è la fa? la mia amica che da ora in avanti ti hanno avuto più di più e si che ehi, 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 ehi ehi, 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 ehi papà ma com'è? mi sento male a fare il divan? ma non era il filippo che aveva la vita? non era il testo prima ma io voglio fare il divan ma io voglio fare il divan ma io voglio fare il divan e a questa non è beno resitmi e brevi del divan non voglio mai fare beh ah voi il filippo beh ah voi il il bo attrattato ma rica 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 e non lo so rica ma la la cattemina si spaga mezzo no ma non va, ma non va, e te tu sei! Ma Don Filippo! 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 E... 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 Allora, le stascia è quella perché, Filippo il turnerà, e lui entra e dirà, e dirà, e... stai in segno? Sì! Hai visto lei, po' va! Siamo per me, e poi c'hai idea che a Filippo, la moglie ha fatto un marancho, e mi fiole anziché non soffrire e vuole un bandamato ma che vuole dire? ma che vuole dire? ma che vuole dire? me il bandamato vuole dire queste infabiche quelle quelle per la madre lì che ha e voi non lo spiegaste anche queste lettere ma che lettere te dire? ma li si d'anca ma che lettere te dire? li si cosa faccia il bel di gente al vostro più? li si d'anca ma che Dio vincione? con fai che venga sale e ti lascia che avvenghi a trempire li si, li si caro papà chi era il vostro fiolo? grande di fiola caro papà io amo ardentemente Gigi Gigi? Gigi ah, al bel Gigi eh, si amo Gigi e non ebbi il coraggio di confessarvelo perché temevo il vostro sdegno sapono so quando leggerete questa mia io sarò con Gigi ah, al bel Gigi ah, parlo molto lontano da voi perdonatemi ma io non potevo vivere senza di lui lui, sapere Gigi non parlo vostra Enrichetta ecco avessi intò che è ricchezza se è ma è nato ma dov'è venire un po' ma non sei capa la Zahira eh? non sei capa la Zahira voi è il marrone di mia moglie il marrone di vostra moglie il marrone di vostra moglie il marie eh, il marie magari pure forse il marie ma voi sapete così in piccetta la lettera che questa ma pensi che Blanfer è il vostro fiolo da che soviene poi le vuole viste no il marie di Gigi da vostra fiolo il ratto dell'Enrichetta no è questa vostra fiola che la rapè mi fiola il ratto del Gigi no è questa vostra fiola Luca è me mi ha rapito una giovane donna illibata allora se vi scusate se vi scusate se vi scusate e me e me mi interessa chiedita qui per voi per ragùsè la colpa è la vostra brega stoppa è la vostra tu lulu da ma Filippo se ho tornato a dire che la cava il palento te du se perchè in giorni du la sa voi du che eri furini su fiù lo siamo per seri con chi du ciaschi fan porra mai una carazza su fiola eh vai e lo sempre servitore umidissimo che ha fatto il palento su fiola vai un troppo severo un troppo severo un troppo severo eh adesso mettiamo su il frutto qui a qualche di su me eh si si ma io vorrei creare la sangue eh e se vi sono nel settore la mano trova che ha il birichè e io sono per davanti tutti povera Enrichetta io tu non ci sei ora siamo persuesi adesso eh si si e rimedirei al mal fatto sovi 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 avanti l'importante ragazzo dai busti al papà ma 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 cos'era sta storia e la lettera la lettera per burro ma è che la passando l'esca per lì oh ma signor papà è contante laura che sposa di genna si 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 ma come vuoi fare la mia richetta? non so che te lo pensi posi la curma da la farai conto eh ed ecco qui la commedia finè con il suo breve matrimonio l'autore qui ha una piognita da fare e salutando tutti toglie l'incontro chi fa? bella? cance a me? Zaira? io amo ancora al perdona e sei amato quando ha svolto i monti bani? grazie aveva ringrazi che in cosa si fa fino ai bani? speravo tu ma quando ha ricordato al tuo verbi al tuo verbi che ha visto il tuo culer in cosa va a cupe se la gallina canta e il gallo sta a cupe come dice? in cosa va a cupe se la gallina canta e il gallo sta a cupe 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 cosi pare? se mi pare se le gallo sta a cupe permesso? oh signor Deiter un bella finente vorrei e che viene un prela? oh vabbè venno vett vett vabbè Aiutete fermi il smirdanter E' te che fa un vero Ma ho presa la sera un po' un canto Ma quale è un canto al canto niente? Il smirdanter Oh, che è? Mi piaceva tanto e c'è un buccio Il smirdanter E dite magari in sera Cantia, ho un canto a presa in cammino A visca a te Oh, cascia A sola R3 O che te pui O che te pui Ma ne trovo E vai A non farmi stile Perché tu vado da neve La tigre Un neando E così, ho detto e così sia fatto e chi 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 chi. Cosa l'abbia detto, bella? Così è... se si pare! Grazie. 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 Speriamo di aver passato insieme un bel pomeriggio. Grazie. 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 Grazie alle mani per quelli che voi ci conoscono da un po' di tempo. È stato come tornare un po' a casa perché è stata la nostra casa per tanto tempo. Finché Gigi non decide di andare a fare delle regie con l'ascolti. Io non voglio pensare cosa faranno l'ascolti. Grazie. Ci rivediamo alla prossima occasione. Come state tutti benonti. Grazie. 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 Grazie.